Ciao a tutti! Oggi prepareremo i finocchi in agrodolce. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono finocchi tagliate a fette, aceto di mele, acqua, zucchero, uvetta mollata in acqua calda, pinoli, sale, pepe, olio evo e aglio. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'olio e l'aglio. Ed insaporire per 5 minuti, 120 gradi, velocità 1. togliere l'aglio dal boccale, aggiungere l'uvetta, i pinoli, i finocchi, il sale, il pepe, lo zucchero, l'acqua, e l'aceto di mele e cuocere per 25 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft con il cestello al posto del misurino. I finocchi sono cotti, impiattare e servire. Finocchi in agrodolce, grazie e alla prossima ricetta. Finocchi in agrodolce, grazie a tutti.